Allora signori, vi chiedo per favore di mettervi in fila in ordine di arrivo. E adesso, signore e signori, chiamiamo il penultimo partecipante di oggi, il numero 5. Venga, venga amico mio, la prego. Lui dice, io sono Tony Manero. Fermati, Raul, mi stai distruggendo il bar. Fermo lì, sparo! Fermo, attento! Fermo, figlio di puttana! Fermo, fermo! Quello non rivenchi. Tu non lo sei, tu appartieni a questo posto, alla stessa comunità come tutti noi. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Non più. È finita. Grazie. Grazie.